Bene, una volta impostato questo primo sistema andiamo a realizzare quindi il materiale di questo nostro primo sistema Il materiale sarà sicuramente un materiale standard, che mi sono già preparato ed è molto simile a quello delle nuvole Praticamente abbiamo anche in questo caso un gradient con una colorazione differente Tentiamo che di fatti abbiamo una scala di marroni, quindi di colori molto vicini alla sabbia Modalità regolare senza grandissime variazioni, volendo possiamo utilizzare una modalità fractal con un piccolo noise mount e vedere il risultato Altro materiale, altra mappa che sicuramente dobbiamo andare a inserire è quella dell'opacity Anche in questo caso dobbiamo inserire una mask, che sarà una mask con un gradiente, classico radiente con le impostazioni di default E un gradiente invece per il noise, con un pochino di noise per dare l'effetto un po' movimentato Anche in questo caso un radial con le stesse identiche dimensioni del materiale del diffuse Basta veramente riapplicare i concetti visti nella lezione precedente per poter andare a realizzare questo materiale Un materiale molto semplice Vi consiglio, questi materiali siccome sono molto ricorrenti e si utilizzano spesso magari variando pochi parametri Vi consiglio comunque di salvarveli in una libreria Quindi andare a creare una libreria con path to library per poterli poi richiamare volta a volta Cosa che comunque faremo anche noi, visto che questo videocorso non ha l'intento di vedere in maniera approfondita gli shader Che andremo ad applicare ma più che altro vedere i setup e alcune tecniche per poter lavorare con le particles Quindi applichiamolo, naturalmente applichiamolo come face map E andiamo in camera e facciamo un piccolo rendering di prova Possiamo bloccare e renderizzare, magari fare un pochino più piccola e renderizzare per vedere il risultato finale Eccolo qui, vediamo che c'è molto movimento, può andarci bene Vi consiglio sempre alla voce renderer di andare a abilitare il motion blur in questo determinato caso Quindi tasto destro anche sul nostro emitter Tasto destro, object properties, motion blur, tramite image Quindi sarà direttamente sull'immagine Ok Indirizziamo nuovamente Naturalmente non abbiamo luci in scena, abbiamo soltanto un colore di sfondo totalmente diverso dal nero Proprio per vederle meglio, per vedere meglio questo nostro effetto Se non fosse di nostro gradimento il motion blur possiamo anche disabilitarlo oppure aumentarlo Se vado a impostare 2 per esempio sarà molto più forte in fase di rendering Una cosa che non vi ho detto Bisogna stare molto attenti quando si creano i vari emettitori Poiché come sistema di layer abbiamo sempre comunque un ordine da seguire Nel caso sbagliassimo, ho sbagliato volutamente Possiamo tranquillamente selezionare il nostro emettitore o nostra luce o geometria E portarla sul layer di nostro interesse Anche per i nomi in questo caso abbiamo veramente pochissimi elementi Quindi non mi preoccupo di andare ad assegnare dei nomi Ma la cosa più corretta sarebbe andare ad assegnare proprio dei nomi A tutti gli elementi che andiamo a creare in scena In modo tale che sia molto più ordinato il nostro lavoro E molto più facile da ricercare Naturalmente se abbiamo pochi elementi possiamo anche permetterci il lusso Di non assegnare assolutamente dei nomi